buonasera e benvenuti ciao ragazzi ciao ragazze ciao a tutti qui il vostro amichevole advertiser di quartiere che vi parla perché perché oggi voglio parlarvi di una roba che vi fa andare in confusione continuamente e che vorrei chiarire una volta per tutte questo l'argomento del giorno sono gli algoritmi che governano fondamentalmente meta e i segnali algoritmici voglio farvi questa lezione nonostante siano 19 49 di un venerdì estivo eccetera eccetera perché perché fondamentalmente nell'ultima settimana ho ricevuto decine di domande su questo tema tema di cui nessuno parla perché i vari esperti vi illudono di poter scalare semplicemente con tecniche segrete quando in realtà basterebbe conoscere come funziona l'algoritmo e poter effettivamente agire su questa quarta qui è una lezione che probabilmente tornerà utile a molti ovviamente rimarrà registrata la sentirete potete anche sentirla in versione podcast più avanti e quindi insomma così un paio di cose prima di iniziare se mi sentite mi vedete bene un like fa sicuramente piacere anche anche più di uno questo aumenta anche la delivery di questa live perché la vedranno più persone e un'altra cosa che vi posso dire è che se siete iscritti alla newsletter di loop avete probabilmente ricevuto qualche ora fa un'oretta fa una mail da parte mia in cui vi racconto un nuovo progetto che si chiama loop multiplier in brevissimo abbiamo lanciato la possibilità per tutti di per tutti insomma per un vi harà selezionato di farsi seguire da noi a livello consulenziale lo facciamo già per grandi aziende e scale up da diverso tempo e semplicemente abbiamo deciso di aprire questa possibilità a molte più persone e quindi insomma guardatevi la mail non sto qui a sparire a vi nulla per ora perfetto allora 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 ragazzi partiamo con l'argomento del giorno fatemi sapere si sente bene è ok se non vi avvicino un po allo schermo quindi datemi un attimo un feedback e poi partiamo parliamo di algoritmo e di segnali ok quindi cosa vuol dire vuol dire che facebook o comunque meta governa la distribuzione dei contenuti al suo interno e soprattutto della dv con degli algoritmi algoritmi che si nutrono di segnali algoritmici ok sono fondamentalmente dei sistemi che permettono a meta di far vedere determinati tipi di contenuti a determinati tipi di persone c'è un algoritmo per quanto riguarda meta c'è facebook ce n'è uno per quanto riguarda instagram e ce n'è uno per quanto riguarda la parte di aste pubblicitarie quindi tra parte di pubblicità a un certo tipo di insomma di funzionamento ok perfetto allora siccome molto spesso si fa tanta confusione allora io oggi voglio spiegarvi come funziona la parte pubblicitaria prima di tutto poi se è un argomento che vi interessa verso la fine vi racconto anche un po' di trucchetti per aumentare la parte di copertura organica sulle varie piattaforme di meta comunque partiamo dalla parte di algoritmo per la parte pubblicitaria ok quindi partiamo da un concetto di base a meta interessano gli utenti a meta non interessano le aziende e gli advertiser questo perché perché il numero di utenti è ciò che è poi il parametro fondamentale per il funzionamento di un sistema di questo genere il tempo che l'utente passa in piattaforma è ciò che poi determina la quantità di adv che l'utente andrà a vedere e soprattutto punto da non dimenticarsi mai più l'utente passa in piattaforma ed è felice quindi ha una buona esperienza in piattaforma maggiore è la possibilità che l'utente rimanga più tempo all'interno di questa piattaforma e quindi di conseguenza meta guadagni di più ok perfetto essendo meta un'azienda che di fatto ok non è una onlus ma è un'azienda vera e propria deve in qualche modo guadagnare e allora a questo punto c'è un sistema che governa le aste tra i vari advertiser per far capire insomma per decidere chi andrà più in alto o più in basso nei vari feed ok io più a destra o più a sinistra se guardiamo le storie ok quindi questo è il funzionamento di base questo sistema qui come è impostato si basa su tre parametri uno è quanto noi siamo disposti a pagare per quello spazio che si chiama bid ce n'è un altro che è moltiplicato per il bid che si chiama IAR cioè IAR che fondamentalmente è estimated action rate che è quanto fondamentalmente meta crede sia la possibilità che un utente compia un'azione specifica che è quella che noi gli indichiamo quando andiamo a scegliere l'obiettivo di advertising ok e poi c'è una terza parte che viene sommata alla prima moltiplicazione quindi abbiamo bid per estimated action rate più un'ultima parte che è quella legata relevance and quality ok quindi fondamentalmente la terza parte è quanto la mia inserzione è rilevante per la persona quanto è alta la qualità di questa inserzione per l'utente che la va a vedere quindi com'è l'esperienza che vive l'utente quando noi diamo gli mostriamo un'inserzione benissimo qual è l'obiettivo di tutti noi è alzare questo valore perché? perché se noi alziamo al massimo il valore della rilevanza il valore della qualità riusciamo a lavorare bene con il bid corretto che a volte è quello automatico cioè la maggior parte delle volte è quello automatico e poi questo porta anche un tasso di azione stimato dei nostri utenti più alto a quel punto noi vinciamo più aste vincere più aste vuol dire finire nel posto giusto in cui l'utente specifico avrà maggiore possibilità di convertire e quindi a parità di investimento avremo un numero di conversioni o comunque un numero di eventi che noi andiamo a scegliere maggiore ok quindi fondamentalmente la pubblicità funziona meglio ok è abbastanza semplice questa cosa è una formuletta che dovete impararvi cosa andiamo noi a controllare noi advertiser noi andiamo a controllare fondamentalmente due pezzi su tre il pezzo relativo di questa formula qua insomma due parti su tre di questa formula la parte relativa al bid che noi come vi ripeto probabilmente possiamo anche lasciare automatica cioè direi a facebook scegli tu il bid giusto per farmi entrare e poi una parte invece chiamata l'advento che si va a controllare in che modo con la creatività e con le impostazioni che noi andiamo a mettere all'interno di queste campagne la creatività ovviamente maggiore la diciamo pertinenza della qualità rispetto all'utente che la va a vedere maggiore la possibilità che questi utenti interagiscono con questa creatività può fare interazioni di tipo diverso e queste interazioni vengono misurate da un unico grande parametro che si chiama CTR CTR All ok il CTR All è il parametro che poi governa fondamentalmente il valore della vostra inserzione perché maggiore il numero di engagement che fa l'utente con la vostra inserzione maggiore la possibilità che voi vinciate delle aste di qualità maggiore ok quindi ciò che noi dobbiamo fare per lavorare su Relevance and Quality è semplicemente fare delle inserzioni migliori inserzioni migliori che vuol dire prima di tutto fare una buona ricerca capire una buona analisi del target capire cosa può interessare al target se il target è interessato in modo diciamo primario e abbiamo fatto quindi un buon lavoro di ricerca facciamo una buona creatività la buona creatività viene spiazzato da Facebook nella sua diciamo bacheca in una prima fase che è chiamata fase di apprendimento e se l'apprendimento lo vinciamo con dei buoni segnali e tra un po' parliamo di segnali ok quindi diamo a Facebook la possibilità di capire cosa succede allora c'è una buona possibilità che noi otterremo il giudato che vogliamo cioè mostrare alle persone giuste c'ho quella che è la giusta creatività per loro e quindi ottenere maggiore possibilità di convertire ok questo è un po' il gioco controlliamo anche il bid ve l'ho detto prima volendo ci può mettere anche i bid manuali cost cap bid cap quello che volete però rimane comunque il fatto che il gioco vero si fa sulle creatività l'ho detto 100 volte ed è anche uno dei motivi per cui in lupo abbiamo creato Creative Lab che è la nostra la nostra diciamo newsletter settimanale in cui parliamo di creatività perché il gioco fondamentalmente è tutto lì il grosso del gioco è lì c'è poi una parte chiamata estimated action rate in questa parte di estimated action rate fondamentalmente non la controlliamo noi in modo diretto se non scegliendo il giusto obiettivo per la giusta campagna cioè se noi vogliamo conversioni ve l'ho detto 150.000 volte dobbiamo chiedere conversioni a facebook se noi vogliamo engagement dobbiamo chiedere engagement se vogliamo video views dobbiamo chiedere video views perché se noi vogliamo vendite e chiediamo traffico facebook avrà magari una maggiore pertinenza un tasso di azione stimato più alto ma poi non non terremo quello che vogliamo ok e non è che potete dirmi si ma fra intanto mando del traffico e poi faccio retargeting no non funziona più già funzionava poco una volta quando costava poco il traffico figuriamo adesso quando il traffico costa un po' di più più o meno in italia abbiamo un cpm di circa 3 euro quando inizio io avevamo un cpm probabilmente di 15-20 forse 50 centesimi capirei la differenza nel corso del tempo diventa importante quindi ciò che noi dobbiamo imparare a fare è dare a facebook quello che facebook vuole e cosa vuole facebook vuole segnali corretti e da parte nostra appunto l'indicazione di ciò che noi vogliamo andare a ottenere ok bene fino a ora è tutto chiaro scrivetemi un commento fatemi sapere se è abbastanza chiaro perché se non è chiaro ve lo rispiego oppure ve lo possiamo rispiegare alla fine cosa c'entrano quelli che io chiamo segnali in tutto questo bel discorso c'entrano che ogni azione che fa l'utente all'interno di facebook e dopo aver cliccato sulla nostra inserzione quindi anche al di fuori da facebook passa a facebook stesso dei segnali cosa sono questi segnali semplicemente sono delle indicazioni che permettono a facebook di capire qual è l'utente giusto qual è l'utente sbagliato a cui mostrare questa inserzione sono di vario tipo ci sono segnali pre-click e post-click pre-click sono dati fondamentalmente dall'engagement nell'inserzione quindi chi clicca su cosa e per chi ci clicca poi lo deduce facebook e quando ci clicca e quante volte ci clicca sono altri dati molto interessanti oppure quanto tempo sta a guardare un singolo video e poi ci sono i dati post-click i dati post-click sono quanto tempo l'utente sta nel nostro sito se nel nostro sito sta e ci rimane quindi se il bounce rate è alto o è basso se nel nostro sito ipotizziamo un e-commerce non solo entra ma anche clicca fa una serie di clic uno dopo l'altro fino ad arrivare poi eventualmente alla conversione finale conversione finale che può essere l'acquisto il lead o quello che volete ok se noi non mettiamo in ordine tutta questa parte qua facebook da una parte o all'altra si perde perché perché se noi non abbiamo un buon sito e non abbiamo fatto bene il nostro mestiere sul sito facebook si manderà tanto traffico nel sito stesso ma poi non capirà niente degli utenti che ci sono all'interno e siccome ci sono sempre dei problemi di tracking perché comunque ios non permette a facebook di tracciare in modo coerente e corretto tutti gli utenti se noi facciamo anche un pessimo lavoro e quindi già perdiamo altri segnali e altri li perdiamo perché le nostre inserzioni sono cioè se il nostro sito è fatto male a quel punto capite che facebook non funziona e quindi quando il buon francesco cioè io stesso vi dice oh raga se le vostre inserzioni sono instabili vuol dire che avete un problema o prima o dopo il click intendo proprio questo cioè vuol dire che magari avete un ctr molto alto o comunque buona buona qualità di traffico che entra nel vostro sito traffico che poi perdete nel sito e se come voi lo perdete nel sito facebook perde quei segnali e se perde quei segnali nelle aste successive avrete una pertinenza più bassa e avendo una pertinenza più bassa andrete probabilmente a competere su delle aste differenti quindi avrete una minore qualità del target che a cui verranno mostrate queste inserzioni e di conseguenza avrete dei click peggiori e quindi il gioco va così va verso il basso si fa male e vi fate male e la colpa non è facebook è brutto e cattivo mi frega i soldi no è che fondamentalmente non avete capito come funziona sta macchina ok quindi cosa si fa per migliorare la qualità di questi segnali si fa una cosa molto molto semplice si seguono le linee di guida quali sono le linee di guida di facebook per il miglioramento della parte algoritmica e quindi di segnali sono fondamentalmente quattro la prima di tutte è installate bene il pixel della conversion api ok quindi conversion api che è fondamentale dovete installarla il pixel dovete installarlo bene vuol dire che deve essere veloce a caricare il più possibile vuol dire che deve essere installato con i giusti eventi che servono per il vostro sito e a volte magari anche con degli eventi in più tipo eventi sullo scroll eventi sul tempo sul sito quindi diamo dei dati a facebook più dati diamo a facebook meglio è vi faccio un esempio di questa roba qua noi nel blog di loop se andate a vedere il nostro blog e ci rimanete più di un minuto ok in una singola pagina diciamo di una singola pagina del nostro blog ci sta dentro più di un minuto più di un minuto leggete i contenuti perfetto state un minuto scatta un evento l'evento si chiama lettore blog perché perché quando io francesco faccio delle campagne per mandare dentro del traffico nel mio blog non voglio gente che entra voglio gente che legga e se uno ci sta dentro un minuto verosimilmente l'ha letto e quindi faccio scattare quell'evento questo evento passa un segnale a facebook che dice guarda che quelli che leggono almeno un minuto sono questi e quindi quando io faccio una campagna per chiedermi questi utenti gioco è fatto avrò quell'utente che voglio io e non un utente a caso che prenderei con una campagna tra l'altro vedo che c'è anche il buon Michelangelo qui ciao Michi che dice che la conversion API è giustamente deve passare lato server non lato client ma questo hai fatto molto bene a ribadirlo io lo davo per scontato ma effettivamente c'è ancora chi fa le conversion API lato client che diventa un casino lato server vuol dire investire qualche soldino ovviamente perché comunque costicchia un po' ma stiamo parlando che per un e-commerce grande vi costa una settantina di euro al mese 100 euro al mese stiamo parlando di cifre impattanti sul business se non il fatto che se non ce li avete perdete più soldi di quelli che spendete ok quindi conversion API punto 1 punto 2 dobbiamo passare dati qualitativamente rilevanti a facebook che vuol dire che dobbiamo ottimizzare il nostro sito per fare in modo che l'utente abbia una buona esperienza utente all'interno del sito quindi lavorate su x lavorate su ui quindi su un'interfaccia utente e lavorate sulla parte di conversion rate optimization quello che si chiama CRO cosa che tra l'altro noi quando facciamo le consulazioni come loop andiamo a dire ogni santa volta perché perché la maggior parte degli e-commerce in Italia sono fatti da culo passate il termine tecnico per quanto riguarda la parte di interfazza utente e quindi praticamente l'utente entra guarda la scheda prodotto non trova quello che vuole e se ne va da un'altra parte e cosa vuole un utente nella scheda prodotto ve lo spiego all'interno di performance goal ci sono 10 lezioni su questo ma fondamentalmente riprova sociale coltare le foto un buon gioco di posizionamento di vari elementi insomma ci sono tutta una serie di cose ok in performance goal ne parliamo insomma in modo molto avanzato ma la parte del CRO è fondamentale perché perché se perdiamo segnali perché il sito fa schifo non funziona il gioco poi andiamo avanti c'è un altro punto la qualità del dato che noi andiamo a passare perché Facebook riesce a riconoscere un utente soprattutto se passa da iOS se riesce a riprendere nome cognome numero cioè nome cognome email come base per l'API per la conversion API ma poi anche altri dati quindi nel momento in cui noi facciamo scattare dei pop up tatticamente sistemati all'interno del nostro sito che magari fanno scattare anche un evento lead in cui prendiamo nome cognome e email questo aiuterà Facebook a aumentare il tasso di matching tra l'utente che è entrato e l'utente che poi ha fatto qualcosa nel mio sito se io questa cosa non la faccio che cosa succede? succede che fondamentalmente ok perdo delle possibilità ok quindi è chiaro che non tutti gli utenti che entrano nel sito mi lasciano un lead ma più utenti prendo maggiore il matching che faccio con Facebook anche perché quei dati uno li posso passare tramite pixel a Facebook ma poi li posso usare anche per fare custom audience e altre cose che possono aiutare Facebook stesso a migliorare la pertinenza delle nostre inserzioni perché la pertinenza dipende anche dal target ovviamente no? quindi ottimo punto per quanto riguarda la parte di segnali algoritmici è la parte creativa ne abbiamo già parlato prima ok fondamentalmente quello che dovete capire ok seriamente da questo punto di vista è che le creatività quindi la parte creativa è quella che poi porta gli utenti a cliccare o non cliccare se voi avete pochi utenti che cliccano perché avete le creatività che non vanno bene in generale pochi dipende poi dal tipo di business avrete minore pertinenza e avendo minore pertinenza perderete più aste e l'abbiamo già detto prima ma avrete anche e manderete meno segnali a Facebook e dovete mandare anche i segnali giusti perché? perché anche lì fare creatività clickbait che poi entrano nel sito e poi escono subito dal sito perché non trovano quello che gli avete promesso non funziona perché? perché vale tutto il processo da prima ad dopo ok? quindi quello che io vi posso dire ragazzi è che l'algoritmo l'argomento algoritmo e segnali è abbastanza semplice è una cosa che potete imparare cioè vi ascoltate questo video all'inizio e ve lo mettete in testa ciò che non mi è però chiaro è come mai fate delle campagne senza sapere queste cose ed è molto molto grave però adesso spero che abbiate magari capito meglio questo concetto e magari iniziate a fare le cose un pelo meglio altrimenti ci perdete solo soldi vedevo prima passare una domanda si dice eh ma se io ho delle cioè anzi da tutto questo che hai spiegato dipende il cpm delle mie inserzioni mi nel senso che il cpm delle inserzioni non dipende solamente da quanto siamo bravi noi ma anche da quanto sono bravi i nostri competitor ok quindi avere dei competitor che lavorano bene qua almeno quanto noi ma magari anche che hanno più segnali di noi hanno più stabilità di noi eccetera eccetera comunque farà crescere il cpm oppure più advertiser sul mercato essendo un'asta vuol dire che l'asta si alza quindi i cpm vengono sicuramente influenzati ma non necessariamente abbiamo un cpm minore se facciamo tutto questo magari è semplicemente che è non maggiore ok quindi questo gioco è un gioco di costo opportunità lavorate bene avete maggiore possibilità di ottenere quello che volete lavorate male avete minore possibilità e siccome molti di voi già lavorano con budget molto piccoli e questo lo so perché purtroppo l'italiano questo mercato qui piccolo nintendo budget sotto di 5 7 mila euro al mese lavorare male è un problema perché perché già avete pochi se mandate pochi click li perdete anche non funziona quindi tutto questo per dire che cosa per dire che è agosto che dire per dire che è un momento in cui tendenzialmente si fanno meno campagne ma è anche il momento in cui bisogna cominciare a programmare il futuro ed è il momento in cui voi dovete andare da chi si occupa di e-commerce se siete voi stessi meglio ancora e dire ehi amico odio via voi stessi ehi me stesso è il momento di lavorare sul sito è il momento di lavorare sulle sulle creatività è il momento di fare tante altre cose ok che aiutano a migliorare i segnali perché altrimenti ragazzi finite come me ieri sera dopo aver bevuto un numero di tequila cose abbastanza alto che è riuscito a tornare a casa tranquilli e felici però allo stesso tempo probabilmente bevendone qualcuno di meno tornate a casa più facilmente e quindi avevate un risultato minore a parità di sforzo ok ok bene così ho preso anche un commento bellissimo dal mio amico Viron qui sotto bene ho risposto alle vostre domande vi è chiaro quello che vi ho spiegato perché altrimenti fatemi delle domande qui sotto che vi vi rispondo più che volentieri su questo ma anche su altri argomenti che sono correlati vi rispondo vi do ancora qualche minuto intanto che mi fate le domande vi ripeto che se avete visto la mail che vi ho mandato prima sapete che abbiamo lanciato loop multiplier è fondamentalmente un percorso di crescita di un certo livello e quindi di conseguenza se volete fare un salto in avanti come la vostra azienda il vostro e-commerce eccetera valutate se candidarvi tra l'altro il buon Michelangelo fa anche notare che sta arrivando il Chrome Privacy Sandbox che fondamentalmente è una lottura di palle in più che limiterà ancora di più tutta questa parte poi perderemo i cookie in futuro avremo una serie di storie che non aiuterà sicuramente a ottenere dei risultati migliori anzi 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 rispondo a UndercoverDudu che dice questa live verrà salvata sì come sempre tutte le mie live rimangono salvate le trovate anche su YouTube le trovate anche in versioni podcast su Loopcast tra l'altro su Loopcast è uscito un bel episodio l'altro giorno vi consiglio di guardarvelo perché è molto molto figo e abbiamo parlato con Mattia Marangon di Lego Lies molto molto bene 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 vedo che non ci sono domande aspetto ancora qualche istante e se no vi auguro una buona serata e ci sentiamo quanto prima adesso tendiamo un attimino una cinquantina quindi immagino che qualche domandina possa ancora arrivare adesso vediamo se no vuol dire che sono stato troppo bravo a spiegare questa cosa e mi posso anche bullare poi di questa cosa magari eviterei vediamo cos'altro vi posso dire buo niente che ah ok in Performance School si parla di copywriting per email marketing si certo di ISO c'è una parte di email marketing in cui si parla di questo tra l'altro riapriremo l'evento di Fronascol tra qualche giorno quindi potete anche lì chiedere se mi iscrivervi alla lista di pre-apertura e poi solo per e-commerce per smma per attività locali beh dipende leggiti la landing page e vedi se effettivamente fa parte per te Karim diciamo che comunque è un percorso di consulenza avanzata con loop e non è una cosa che costa proprio poco 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 quindi va anche capito se vale la pena per te cioè nel senso abbiamo un target abbastanza preciso e non è una cosa così economica possiamo dire ok bene 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 ottimo vedo che non ci sono grandi domande quindi io vi auguro una buona serata spero di avervi dato dei contenuti che vi torni inutili e ci sentiamo nei prossimi giorni più che volentieri e la domanda di ah ma sono arrivati adesso le domande ragazzi se l'ha piantato sto cosa se l'ha piantato tutto Mattia dice dopo quante vendite o quanti click sposti in una creatività su campagna testa l'evergreen probabilmente non lo so dipende dal business dipende quanto è stabile dipende quanti segnali ho dipende da quanti dopo quanti click dopo quante vendite riesco ad avere un po' di stabilità perché magari faccio una vendita 10 euro una 40 la media fa 25 però non è 25 il costo conversione è 10 40 quindi quando ho un po' di stabilità magari posso provare a spostarla sono applicabili le tecniche di UX e UI a Shopify certo Giso assolutamente puoi farlo senza nessun tipo di problema anzi andare a applicare la parte di UX e UI su Shopify è anche abbastanza facile perché molto spesso basta utilizzare dei plug-in o anche semplicemente un po' di buon senso e si possono fare queste belle cose ovviamente devi saperlo a usare Shopify ok sono dei stili Shopify clamorosi fondamentalmente si fanno con la conoscenza di quello che sta facendo tanto in Performance School ci sono tutta una serie di contenuti proprio che spiegano questa roba con esempi pratici c'è un esempio di Misen che è un e-commerce che mi piace tantissimo e che racconta proprio tutte queste robe qua quindi potete proprio seguire un brand da zero e ciao Francesco a me sembra che TikTok stia diventando una macchina sempre più performante e affidabile sto aumentando che vuoi base alla sua piattaforma Andrea noi spendiamo qualche decina di migliaia di euro a settimana su TikTok forse qualcosa in più adesso il grande problema è che non è vero che sta migliorando è come prima e rispetto a Instagram su spending importanti per un motivo semplice a pochi posizionamenti riesce a seguire l'utente fino a un certo punto in più è abbastanza improbabile che un utente riesca a vedere la tua inserzione più volte nel corso della stagionata è abbastanza improbabile che tu riesca a fare adreco il fatto come si deve quindi farti ricordare e soprattutto brucia le creatività con una visibilità tale che anche la differenza di CPM che ormai non è così grande viene a meno come vantaggio perché probabilmente è un programma creative quindi sì in alcuni business potrebbe tornare utili ma in altri probabilmente no ok mi spiace un po' deluderti poi ovviamente se tu hai degli ottimi risultati ben per te dico niente e non è che io solo conti che tocca anzi ripeto spendiamo tanto siamo contenti però ecco se mi dicessero Francesco dove metti tanti soldi io ci penso perché dipende proprio dal singolo business ma tendenzialmente i reel funzionano molto molto bene bene ragazzi vi lascio andare a cena ci sentiamo molto presto e spero di esservi stato